Non serve che tirate i cd, eh, se vi stanno per tornare teneteli che... Cioè, tanto è immune il boss, non dobbiamo tenerli sull'hud, gli hud muoiono... Occhio al knock, vai, mettiamoci in posizione, evitate ste cose... I pulls, bet, dodge frecce, abeitate le pozze per terra... Poi mancano l'Hulu e Riot sui prossimi raggi... Vedo le bombe... Ultimi dodge... Sotto... ...dieti... ...dieti... Fuori... Bait vicino al fuoco... Ok... Sono andato via... Dodge... No, isca... Non laggare... Occhio alle bombe... Uno sotto il ride sono... ...debuff al bordo... Aspettiamo che entrino... Aspettiamo che entrino... Bait... Verso bordo sinistra... Lodge... Lodge... Proprio dritto per dritto... Attenti... Sotto con le pozze... Perfetto... Perfetto... Debuff al esterno... Dispore quando volete... Bombe... Guardate per terra... Baitate il raggio... Occhio al Brett... Ok... Verso sinistra... Perfetto... Tenete i cd su sti ad... Fateli normale... Sotto le bombe... Non la fate? Oh... Vabbè... Ah ok... A posto... Non l'avevo vista... Semplicemente finiamoli... Prendiamo il verde... Vabbè... Veloce... Vabbè... Vabbè... Fate solo l'ultimo... Focus add adesso... Col BL... Non state davanti al boss... Non state... Davanti al boss... Tutti add... Tantamente anche cd da prima... Sok al bordo... Perfetto... Lì lì lì... Tinilo lì... Sok 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 sok... Dentro sok... Dentro sok... Fuori... Bombe... Attenti... Non prendetele... Da senzino... Prendi le cose per terra... State sulla linea... Non ce l'abbiamo... Arror... Abbiamo uno solo... Via... Ora... Non state davanti al boss... Bordo... Sulla X... Andiamo... Aspettiamo le pozze... Aspettiamo le pozze... Tutti i monopixel... Aspettiamo le pozze... Per il knock... E poi faremo add... Via... Dispel... Add tutti con le seconde pozze... Seconde pozze... Seconde pozze... Seconde pozze... Seconde pozze... Residuo... Veloce... Add tutti... Bombe... Doggiatele... Non prendetele... Non state davanti al boss... Per nessun motivo... Sotto... Dietro... In mezzo... Perfetto... Le hanno preso le boeratte... Non state davanti al boss... Sì... Esatto... Isca... Ti conviene poi entrare... Se riesci... Dietro... Dietro le luci... Tutte quelle che volete... Fuori... 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 Restate Isca... E la prossima sarà... Stella... Sok... Sokli... Soklic... Ok... Allora non tira... Non... Sì... Ok... Stella... Dietro di noi... Dietro di noi... Pusciate boss... Pusciate boss... Sì... Non state davanti al boss... Via Dispel... Tenetevi... Tutto quello che avete... Add... Tutti add... Focus... Kick... E stun... Dovremo solo rimanere vivi qua... Tutti add... Non deve passare un cast... Stateci dentro... Fateci quello che volete... Via Ferra... C'è la bomba... O no... Cos'è quello... Sok... Sok... Sok senza andare davanti al boss... Via dal coso... Forzate... Non state davanti al boss... Forzate il boss... Forzate il boss... Forzate il boss... 6 milioni... 6 milioni... 6 milioni... 6 milioni... Nascondetevi... Oh... Bravi... Oh... No... No...